Benvenuti tutti all'evento esperienze connesse, comunicazione, reputazione, relazioni. È un evento sicuramente prima di una serie di incontri che mettono al centro che cosa? La professione della comunicazione mettono al centro le competenze e quindi anche tutte le teorie e quello che si può fare attraverso la comunicazione anche sul versante della pratica, quindi teoria che arriva sulla pratica, pratica che in qualche maniera rimodella la teoria e si va nuovamente verso la teoria. Nel mezzo ci sta la didattica che è trasversale a tutti questi momenti e anche trasversale a tutte le competenze che le relazioni pubbliche e la comunicazione richiedano. Con grande piacere passo per cortesia a tutte le telecamere chiudere. Grazie Guglielmo, un piacere vederti, buongiorno. Passo la parola a Renata, grazie, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Renata Codiglia, coordinatrice dei corsi di laurea triennale a relazioni pubbliche e magistrale comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni. E con molto piacere che do il benvenuto a tutte e a tutti, a cominciare dai gentili ospiti relatori che hanno accettato il nostro invito per oggi, per cui benvenuto il professor Mario Morcellini, benvenuta Nicoletta Vittadini e poi agli amici Daniele Chieffi che immagino si collegherà breve con noi e al collega Massimiliano Moschin. L'occasione è appunto per questo evento, come dice il professor Strizzolo, il primo di una serie nell'ambito dei suoi insegnamenti, ma evidentemente a uso, a beneficio di tutte le studentesse, gli studenti di relazioni pubbliche comunicazione integrata e con la gradita partecipazione anche degli ospiti esterni. Lasciatemi spendere due parole su un tema di oggi, esperienze connesse. è vero l'importanza dell'uso e delle competenze di utilizzo dei social media e una competenza centrale, fondamentale per i nostri corsi di laurea. Sappiamo quale spazio assuma e sempre di più anche nella pratica, nelle professioni dei relatori pubblici e della comunicazione, comunicazione di impresa in particolare, e sotto gli occhi di tutti, in qualche modo, la rilevanza dell'importanza della formazione rispetto a queste competenze. Però il tema di oggi mi ha suscitato un'ulteriore riflessione che va al di là delle competenze della comunicazione e riguarda un po' l'esperienza, la consapevolezza che tutti quanti noi abbiamo, dobbiamo avere rispetto appunto all'utilizzo dei social media. E mi è venuto così spontaneo a ragionare su quello che è il vissuto nell'ultimo periodo, ovvero il vissuto di vite iperconnesse, da mesi viviamo quasi interamente una vita sullo schermo. La situazione non è casuale, ovviamente mi riferisco a vita sullo schermo di Sherry Park, che alla fine degli anni 90 appunto proponeva una visione, un'analisi dell'utilizzo del web, che era una visione molto ottimistica, tutto sommato, il web come spazio libero di eccellenza per ritrovare, affermare la propria identità, per sperimentare diverse personalità, ma anche per sperimentare modalità di relazione innovative. Ecco, a distanza di vent'anni e con le ultime pubblicazioni di Sherry Park, appunto mi riferisco a Insieme Massoli o all'ultimo poi, all'ultima sua fatica editoriale, la conversazione necessaria, Quello che vediamo e quello che colpisce è una nuova evoluzione nella visione, nella prospettiva di Sherry Park, che passa appunto da un'analisi ottimistica in cui il sé trovava un spazio nuovo di espressione e le identità potevano essere moltiplicate, potevano essere plasmate appunto nel web e quindi il web era visto come una palestra, un laboratorio sociale, una palestra sociale di identità e di relazione. Si arriva alla visione di oggi in cui di fatto Sherry Park ci mette un po' sull'avviso rispetto alle trappole, ai rischi dell'utilizzo, dell'iperutilizzo della tecnologia e dei social oggi per ognuno di noi. E dice che l'aumento vertiginoso delle interazioni attraverso i supporti tecnologici oggi mette in crisi le nostre vite emotive, le nostre vite di relazione, ovvero il rapporto con e attraverso il computer sta modificando appunto le nostre capacità di interazione e in particolare ci rende vulnerabili a un misunderstanding fondamentale e quindi confondere quello che è la vita nei social e quindi le azioni che possono essere fatte attraverso i social media come postare status, condividere foto, inviare like, quindi confondere queste azioni con la comunicazione vera e la relazione vera e propria tra individui. e in particolare appunto questa vita attraverso i social media impoverisce le nostre capacità di ascolto, le nostre capacità di relazione, riduce l'abilità empatica di entrare effettivamente in contatto vero e profondo con l'altro. e questo mi sembra un po' una segnalazione, un warning che è diretto a tutti i consumatori e gli utenti, a tutti quanti noi che ci troviamo appunto a fruire quotidianamente e costantemente dei social media e a metterci un po' sull'avviso rispetto a quello che è un atteggiamento di ingenuità che possiamo avere di scarsa consapevolezza nell'utilizzo appunto del web, delle insidie del web e al pericolo di cadere in comportamenti che magari non ci sembrano pericolosi perché sembrano leggeri appunto ma che poi in realtà sono delle insidie veri e propri comportamenti come l'age speech, il sexting, il cyberbullismo che sono veri e propri reati in rete, ma anche comportamenti di dipendenza come il like addiction come le dipendenze proprio da smartphone, dipendenze che ci fanno in qualche modo confondere appunto gli esiti di quello che può essere ricevere like, multi like con effettivamente una qualità di relazione che poi incide sull'autostima, multi like per i giovani significa essere apprezzati quindi avere un'alta autostima, una buona reputazione questa discrepanza appunto tra la relazione reale e quella che la relazione immediata e agita in qualche modo attraverso queste consuetudini appunto interattive in rete credo sia tema fondamentale, un focus indispensabile a cui richiamare appunto tutte le studentesse e gli studenti e immagino che l'appuntamento di oggi contribuirà in maniera sostanziale a questa riflessione fatemi chiudere rapidamente questi saluti, questa introduzione con un ringraziamento prima di tutto al professor Strizzolo che ha organizzato e avviato questo ciclo di incontri preziosi, fondamentali per la formazione e la didattica dei nostri corsi di laurea ma anche un ringraziamento molto sentito per la partecipazione e il sostegno che sempre riceviamo dal comune di Gorizia, dall'assessore Agatta, assessora all'università che appunto sempre ci accompagna con molto entusiasmo in queste iniziative e infine un ringraziamento per il supporto organizzativo di Uniferpi, Uniferpi Gorizia che utilizzano questi momenti, queste iniziative come palestra per l'esercizio e competenze professionali che appunto possono affinare e che sono appunto competenze da relatori pubblici, da organizzatori e mi auguro a tutta tutti veramente migliori auspici per questa iniziativa e quindi veramente che sia un piacere participare, intervenire e immagino perché no anche far domande, immagino sia previsto uno spazio di dibattito in fondo quindi vi auguro buon lavoro, purtroppo tra un po' dovrò lasciarvi con molto rammarico per impegni concomitanti ma comunque guarderò poi la registrazione più tardi con molto piacere Buon lavoro a tutte e a tutti e restituisco la parola a Nicola Strizzolo Grazie Renata, giustamente hai menzionato il Comune e prima di passare quindi la parola all'assessora dell'Università del Comune di Gorizia aggiungo e porto anche i saluti della Delegata del Rettore di Gorizia la professoressa Nicoletta Vasta che purtroppo è impegnata in Commissione di Tesi a questo punto lascio veramente con grande piacere la parola a Chiara, grazie Buongiorno a tutti, vi saluto anch'io da parte anche del Sindaco è un piacere rivedervi anche da professoressa Codiglia che saluto con affetto visto che è anche tanto tempo che non ci vediamo appunto di persone spero di poterlo fare quanto prima non posso che sposare il discorso insomma che ha appena fatto perché bisogna rendersi conto che chi comunica oggi è una grande responsabilità anche su appunto la parte emotiva di chi legge la notizia di chi appunto oggi anche per sentirsi appunto connesso e per non sentirsi anche meno solo in controllo e in continuazione diversi social per cui tutto quello che viene pubblicato soprattutto a Rette ha ripeto un grasso enorme impatto emotivo su chi guarda e chi legge per cui comunicatori non ci si improvvisa per cui insomma il Comune con grande piacere ha patrocinato l'evento perché anche noi siamo molto sensibili a questi temi abbiamo fatto diverse iniziative anche sul cyberbullismo ma su tutta insomma anche oggi tra l'altro c'è una ricorrenza appunto non indifferente so che anche la professoressa ha anche la carica appunto di delegata con le pari opportunità insomma oggi c'è anche la giornata contro la violenza delle donne per cui insomma stiamo comunicando ad oggi purtroppo esclusivamente sui social che si ci permettono di sopperire soprattutto in questa situazione un po' drammatica la non presenza però ripeto non può sostituire quella che è la presenza fisica e altri tipi di comunicazione che vanno affrontate comunque con serietà ma anche con competenza per cui ringrazio anche il professor Strizzaro e tutti i partecipanti anche io mi scuso vi potrò seguire per una parte però immagino che poi anche il libattito di oggi sarà caricato sul sito per cui me lo guarderò con piacere in un secondo momento grazie Chiara grazie Assessora grazie Comune di Gorizia e abbiamo parlato di giovani abbiamo parlato di comunicazione lasciamo un saluto anche ai giovani comunicatori uniferpi Patrick buongiorno come anticipato io sono Patrick Lavaroni studente del terzo anno di relazioni pubbliche oggi ho il piacere di parlare a nome di uniferpi prima di tutto ringrazio mi accodo a quanto ho fatto da chi ha parlato prima di me ringrazio il professor Strizzolo il Comune di Gorizia l'Università in generale per l'organizzazione dell'evento ricordo a tutti i presenti che per le domande c'è la piattaforma su Paddle appunto dato che siamo in molti Teams sì anche oggi ha messo la dura prova e praticamente sì noi di uniferpi siamo i ragazzi curiosi questa esperienza un po' come ha detto la professoressa prima è una palestra per noi per capire un po' di più questo mestiere invitiamo tutti i nostri colleghi studenti a fare tesoro di iniziative come queste per sentir parlare professionisti esperti per fare pratica detto ciò se non voglio rubare altro tempo auguro a tutti un buon incontro grazie grazie Patrick grazie uniferpi ricordo vi ho mandato nella mail il link al Padlet per chi poi volesse fare domande ringrazio l'Uniferpi per la gestione poi del Padlet e le domande che mi verranno portate a questo punto con grandissimo piacere e amicizia passo la parola a Mario Morcellini proprio l'unica riga perché sarebbe da dire pagine di esattamente il suo ruolo importante i suoi studi attualmente direttore dell'alta scuola di comunicazione e media digitale Unitelma Sapienza grazie Mario grazie a tutti voi un saluto a tutti e ovviamente in particolare agli studenti ma cercheremo di rendere questa lezione il massimo il massimo possibile attenta a dirci cose sentite e se possibile nuove anche in un campo in cui ovviamente fare innovazione linguistica non è facile prima di partire ancora una piccolissima annotazione legata a quello che intendo dire noi sentiamo tante parole tanti discorsi pubblici sul mondo digitale sulla cultura digitale questi discorsi pubblici a loro volta andrebbero studiati come se fosse una specie di appendice del mondo digitale nel senso che per molti versi i discorsi pubblici tranne in parte quelli accademici sono improntati alla bellezza e alla novità e all'aspetto luccicante del mondo digitale già la presidente del corso di lauree al cui intervento mi rifarò continuamente perché l'ho profondamente condiviso ha invece accennato al fatto che dobbiamo vedere dietro il luccichio del digitale la stessa parabola della Tarker che veniva giustamente chiamata in causa è molto interessante per le autocorrezioni come del resto molti profeti del mondo digitale sono stati costretti a fare oggi se riprendesse il libro vite sullo schermo forse lo intitolerebbe vite sullo schermo perché il numero di discorsi pubblici di parole ostili di criticità che si trovano in rete non è mai stato conosciuto la storia degli uomini allora mettiamo in ordine il discorso fermo restando che mi complimento davvero con tutti gli interventi ma in particolare con il lavoro straordinario di organizzazione culturale che Nicola Strizzo lo sta facendo non da ora mi sembra il modello di professore che la terza missione impone la riprendo allora dal tema io devo parlare del ruolo della comunicazione quindi dell'impatto della questione dei cosiddetti possibili effetti e dico subito che questo ruolo è un ruolo complicato perché mentre per le culture precedenti e le culture mainstream le culture della televisione della radio dell'editoria che erano quelli che hanno fatto la prima modernità italiana la loro nascita la loro affermazione è stata accompagnata da campagne anche un po' troppo pessimistiche di approssimazione di domiciliazione cioè quando sono comparsi i grandi media storici gli intellettuali hanno gridato alla preoccupazione con toni a volte persino eccessivi e rasentando anche l'ignoranza l'avvento del mondo digitale bisogna dirlo con assoluta serenità non è stato minimamente accompagnato invece da un discorso relativo all'analisi di impatto dei cambiamenti questo è un discorso su cui mi piacerebbe sfidare i miei colleghi perché è sorprendente che la dialettica apocalittica integrati una delle citazioni forse più fastidiose di Umberto Eco una delle poche in cui non gli siamo molto grati perché era una rusa semplificazione ma quella dialettica ha raccontato bene in modo in cui si è accompagnata in Italia e nell'Europa occidentale l'avvento della televisione prima ancora della radio del cinema e comunque l'importanza dell'editoria e del giornalismo una discussione di questo genere apocalittica integrati non si è invece riprodotta nei confronti del mondo digitale le prese di distanza i discorsi critici non mancano ma sono quantitativamente se non marginali almeno secondarie rispetto alla presunzione di bellezza che quasi tutti quelli che fanno interventi pubblici se il digitale impongono al dibattito c'è troppa concezione di trasformare per esempio gli studiosi in uffici stampa della modalità digitale noi non possiamo essere quelli dell'ufficio stampa già il digitale è forte e potente per potersi permettere che anche noi ci accodiamo alle sue rodie allora vediamo di impostare una riflessione che tenga conto di questi aspetti del dibattito pubblico cioè che deve esserci un nodo di discussione critica un nodo che affronti nei limiti del possibile senza nessuna preclusione critica o pessimistica perché l'università non si può permettere il lusso di essere pessimista essendo educatrice deve per forza pensare agli aspetti positivi ma non può neanche trascurare le dimensioni di preoccupazione io le riassumo in due o tre espressioni che per molti versi radicalizzano le cose che già ha detto alla presidenza del corso di laurea che ancora una volta cito la comunicazione digitale è una novità impressionante nel senso che la storia degli uomini non ha mai visto un medium diventare così rapidamente centrale gli studiosi raccontano che ci sarebbe un'analogia con la televisione ma è un falso la televisione in Italia arriva il primo gennaio non sia esattamente il 3 gennaio 3 o 4 nella notte tra il 3 e 4 gennaio del 54 ma fino agli anni 60 conosce una stagione di incardinamento lento e faticoso niente a che fare con quello che è successo con la parabola di internet che è stata una parabola di una vittoria sul campo impressionante delle dimensioni impressionanti anche queste dimensioni non vengono considerate adeguatamente e badate quando un medium si avventa in modo così forte su una società è difficile che tutti accorga di due dimensioni che pure la cultura dovrebbe tener presenti primo che cosa perdiamo con l'avvento di un nuovo medium che per molti versi sostituisce quelli precedenti anche se più spesso si integra con quelli precedenti secondo cosa non vediamo dell'impatto allora per essere mi dispiace dirlo stavolta rigorosamente sociologo io dico che un dibattito sugli effetti a lungo termine del mutamento digitale in Italia ce lo stiamo sognando pochissimi ci lavorano mentre dovrebbe essere il tema universale dei corsi di comunicazione forse anche dei corsi di informatica e voi domandatevi se avete mai sentito una parola critica da quei mondi quindi insisto su un aspetto su cui mi piace dire agli studenti che applicare al mondo digitale il lessico storico dei media status cioè i manuali di comunicazione penso forse a quello a cui siamo più debitori quello di Mauro Wolf che impone una riflessione sugli effetti a lungo termine della comunicazione dovrebbe essere la nostra divisa etica e cognitiva questo lo dico per dimensioni quantitative l'ho già accennato il mutamento è imponente l'adesione è universale c'è una dimensione di globalizzazione che mai è stata paragonabile a quella che ha svolto il mondo digitale anche rispetto all'altro medium molto democratico che è stata la televisione ricordatevi la citazione di questo grande studioso che è Dominique Volton che ha detto la televisione non ti sento se quindi io passerei alla Nicoletta ci sei Nicoletta e ho parlato adesso con Mario poi lo recuperiamo dopo eventualmente io ci sono dovresti riuscire a sentirmi benissimo e ti vediamo anche benissimo allora appunto in questo intreccio di tecnologie questioni di connessione che caratterizzano la nostra vita in questi giorni provo allora a introdurre quello che immaginavo di raccontare e di condividere con voi oggi diciamo che la sollecitazione che mi è arrivata per partire con il mio discorso è i social media sono passati dall'essere uno strumento tecnologico di comunicazione ad essere un oggetto un soggetto culturale quotidiano e in effetti questo percorso mi sembra davvero molto interessante perché noi alle volte continuiamo a immaginare anche la trattazione giornalistica oppure semplicemente nella vita quotidiana si continuano ad immaginare i social network come una piattaforma in cui le persone intrecciano comunicazioni flussi di discorso like commenti e certamente questo continua a restare il cuore delle piattaforme social siamo però ormai lontani dal modello di facebook inventato dentro l'università di Harvard per far incontrare gli studenti ormai le piattaforme social costituiscono una delle infrastrutture di comunicazione della società in cui viviamo sono delle piattaforme che ci consentono non soltanto di comunicare con i nostri pari ma abbiamo visto anche nell'ambito dell'emergenza che stiamo vivendo e delle nuove condizioni di vita a cui abbiamo dovuto abituarci come le piattaforme social siano diventate strumento di supporto della comunicazione istituzionale della comunicazione sanitaria della comunicazione in diretta delle conferenze stampa anche pubbliche e quindi come abbiamo assunto un ruolo che va anche decisamente al di là dell'essere strumenti di supporto delle nostre relazioni interpersonali è un cammino che le piattaforme avevano già avviato da almeno 5-6 anni e da quando avevano cominciato davvero a proporsi come strumento di comunicazione live di eventi da quando l'innovazione tecnologica aveva introdotto la possibilità di fare banalmente delle dirette video attraverso Facebook Instagram attraverso altre piattaforme ma se ci ricordiamo anche l'introduzione del safety check cioè nei momenti ancora una volta di emergenze di criticità come gli attentati terroristici come momenti in cui si aveva bisogno di sapere se qualcuno che viveva in un altro paese o che era in un'altra città stava bene la piattaforma in particolare Facebook avevano messo a disposizione delle risorse quindi che sono appunto il safety check per dire guardate tutti i miei amici sto bene non mi è successo niente posso rispondere alla richiesta di informazione il proporsi come strumenti di racconto dell'attualità il proporsi come infrastrutture che supportano un'attività di informazione che ha una finalità di utilità pubblica come il safety check come gli aggiornamenti sui terremoti avevano già cominciato a cambiare un po' la natura di queste piattaforme ad aggiungere a quella che è la comunicazione la relazione interpersonale altre modalità di mediazione delle nostre attività quotidiane per esempio l'accesso alle informazioni per esempio l'accesso a risorse di utilità pubblica e quindi diciamo che oggi si configurano come effettivamente delle infrastrutture su cui noi possiamo poggiare per svolgere molte delle nostre attività se poi vogliamo cercare di osservare questa trasformazione delle piattaforme dal luogo appunto di comunicazione interpersonale al luogo di relazioni un po' più complesse che mettono in gioco anche le istituzioni che mettono in gioco anche i news media che mettono in gioco tante tipologie di soggetti diversi comprese le imprese comprese le attività economiche dobbiamo dobbiamo cominciare ad avvicinarci a una definizione che secondo me è molto interessante che viene fornita in un libro che si chiama The Platform Society che probabilmente avete già sentito nominare e che è di un'autrice che si chiama Jose Van Dyck che sta riflettendo molto sulla trasformazione sociali che vengono introdotte dallo sviluppo delle piattaforme e lei dice una piattaforma è un'architettura digitale programmabile quindi è un impianto software una infrastruttura che è progettata per organizzare delle interazioni tra utenti quindi è chiaro che la dimensione relazionale la dimensione di costruzione di relazioni non viene meno anche in questo nuovo modo di guardare le piattaforme però dice queste relazioni non solo tra utenti finali ma anche tra imprese commerciali istituzioni pubbliche diventa un'infrastruttura all'interno della quale viaggiano flussi non solo di comunicazione non solo di chiacchiera non solo di commento ma anche effettivamente flussi di informazione che sono fondamentali per l'aggiornamento per la relazione con le istituzioni pubbliche allora la piattaformizzazione della società che è detta in italiano è molto meno avvincente che platform society come invece è detto in inglese però significa davvero che noi poggiamo su queste piattaforme social per molte molte delle nostre attività e questo cambia sia le nostre attività sia le piattaforme per esempio un passaggio un evento che mi sembra particolarmente interessante da sottolineare è che proprio in occasione della situazione di emergenza legata al covid-19 che stiamo tutti vivendo e condividendo le piattaforme hanno dovuto un po' cambiare il modo di porsi in relazione all'informazione allora se qualcuno di voi un paio di anni fa ha seguito Cambridge Analytica lo scandalo legato alla raccolta dati sugli utenti alla propaganda legata alla campagna elettorale statunitense che aveva portato Zuckerberg fondatore di Facebook a dover rispondere davanti al congresso e davanti anche a delle commissioni specifiche del ruolo di Facebook in questa raccolta illecita di dati forse vi ricorderete ma magari non è una cosa su cui avete posto l'attenzione ce lo ridiciamo qua che è l'atteggiamento di Zuckerberg era stato quasi sempre quello di dire ma Facebook è una tech company noi produciamo software infrastrutture non siamo responsabili dei contenuti che gli utenti o qualsiasi altro soggetto mettono sulla nostra piattaforma non possiamo farci responsabili di questi contenuti e questo è un po' stato sempre l'atteggiamento delle piattaforme social a parte alcune indicazioni veramente di basi per cui non è possibile pubblicare dei contenuti a forte contenuto razzista o altre veramente elementi che sono stati ritenuti dalle piattaforme base di una convivenza civile tra le persone che comunicano al loro interno non c'era stata mai una presa di posizione in termini di responsabilità dei contenuti che circolavano all'interno della piattaforma ma anche Facebook Instagram TikTok Pinterest Twitter e tutti questi soggetti che agiscono all'interno del nostro contesto sociale devono poi tenere conto di qual è l'evoluzione della comunicazione che passa al loro interno e quindi in occasione di questa epidemia di Covid-19 e della necessità di un'informazione anche sanitaria soprattutto nella prima ondata di febbraio marzo aprile seria e affidabile beh è successa una cosa molto interessante che le piattaforme hanno dovuto sulla base di una pressione comunicativa sociale prendere atto che non potevano più rinunciare ad assumersi una responsabilità nei confronti dei contenuti la prima è stata Twitter seguita poi da Pinterest l'ultima è stata Facebook ma piano piano queste piattaforme hanno attivato dei dei Covid Center e cioè hanno attivato dei profili o comunque una parte del loro contenuto in cui raccoglievano informazioni che provenivano da fonti affidabili l'Organizzazione Mondiale della Sanità alcune testate erano ritenute affidabili e ogni volta che qualcuno cercava la parola Covid all'interno del motore di ricerca di Twitter prima di Facebook soltanto in un secondo momento o di Pinterest company romperiva un link che rimandava a quella raccolta di fonti affidabili che la piattaforma aveva costruito quindi certo nessuna di queste piattaforme ha fatto informazione per conto suo diciamo ma questo passaggio è molto importante rispetto a che cosa stanno diventando queste piattaforme oggi perché vuol dire che in qualche modo si sono entrate in gioco nell'ambito della circolazione dei contenuti e delle informazioni nell'ambito di tutto il mondo dei news media ma anche delle relazioni con le istituzioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità come il Ministero della Sanità e hanno assunto il ruolo di mediatori di coloro che hanno raccolto le fonti affidabili quindi importante perché mediatori dell'affidabilità è un ruolo molto importante all'interno di un contesto sociale che queste piattaforme che sono sempre delle companies private si sono assunte e hanno quindi proposto questa raccolta di informazioni che potessero essere un punto di riferimento affidabile in un momento in cui fake news circolavano molto ma anche in un momento in cui c'era un bisogno informativo molto forte quindi questo breve racconto che ho voluto costruirvi per provare a rispondere alla domanda di partenza che è come stanno evolvendo le piattaforme da strumento tecnologico oggetto e soggetto culturale può trovare una iniziale risposta nella nell'indicazione che queste piattaforme certamente continuano a essere luoghi di comunicazione interpersonale luoghi di relazione dove è necessario coltivare anche una relazione in positivo e penso ai riferimenti che sono già stati fatti sulle hate speech ma soprattutto stanno diventando delle infrastrutture importanti all'interno del nostro contesto sociale e stanno assumendosi nella pratica non nella loro non attraverso un percorso istituzionale stanno assumendosi anche dei ruoli che hanno un certo rilievo soprattutto perché non smettono di essere piattaforme di comunicazione social non smettono di essere companies private che si assumono un ruolo importante all'interno della comunicazione pubblica istituzionale della generazione circolazione di informazioni ma anche perché sono sempre piattaforme che come sappiamo sono caratterizzate da degli specifici modelli di business quindi hanno diciamo una loro finalità che è quella di un'azienda che è quella comunque di produrre reddito sono comunque piattaforme che raccolgono dati sui loro utenti con la finalità di dare un valore anche economico poi a questi dati e sono comunque piattaforme che sono programmate sulla base di una serie di algoritmi che alla fine fanno da gatekeeper anche rispetto alle informazioni che noi possiamo vedere all'interno dei nostri profili e quindi non solo ci propongono un set di fonti affidabili a cui rivolgersi se cerchiamo informazioni su temi rilevanti e importanti all'interno del contesto sociale contemporaneo ma comunque continuano a proporci come contenuti informativi o anche legati a nostri interessi quello che sulla base degli algoritmi di selezione e gerarchizzazione delle informazioni viene considerato più opportuno quindi continuano a essere quelle stesse piattaforme che tendono a riproporci sempre contenuti simili tendono a valorizzare soprattutto i contenuti e i profili a cui abbiamo già messo like e quindi che tendono in ogni caso a creare un mondo informativo e un mondo di conoscenze che abbiamo attorno a noi che è tendenzialmente ripetitivo che tendenzialmente tende a riconfermarci nelle nostre convinzioni con l'effetto di ridurre la nostra possibilità di incontrare contenuti altri quella serendipity che alla fine è fondamentale anche nell'elaborazione di un'opinione di un pensiero quindi è importante che noi osserviamo l'evoluzione delle piattaforme social verso soggetti che hanno un ruolo importante all'interno della nostra società proprio perché si assumono ruoli e funzioni pubbliche anche importanti perché certamente il contrasto alle fake news sul covid-19 è importante ma continuano a essere quelle piattaforme appunto che si basano sulla logica algoritmica che sulla raccolta dei dati sulla monetizzazione e capitalizzazione dei dati che raccolgono sui loro utenti quindi diciamo siamo davanti a un momento evolutivo molto molto importante in cui si muovono non solo persone cittadini comuni ma anche attori istituzionali in cui queste piattaforme sono un luogo di nuova intermediazione dei flussi informativi commerciali e anche appunto istituzionali e quindi credo che sia un momento da osservare con grandissima attenzione proprio per tutte quelle trasformazioni che stiamo vedendo quindi spero con questa sintesi di avere fornito uno sguardo un modo di guardare a quello che ci sta succedendo che possa essere utile soprattutto che possiamo poi rilanciare magari in un momento di domande e di dibattito grazie perché ci hai delineato veramente l'ecosistema mediale in maniera evolutiva e adattiva come noi dovremo poi rispondere anche come corsi di studio con la didattica questo è un grande stimolo ad essere noi stessi evolutivi nei nostri studi nelle nostre ricerche in quello che facciamo sui media e Mario porta i suoi saluti se adesso non riesce a intervenire perché prima c'era un ospite di Cocchieffi Mario Morcellini purtroppo per motivi di collegamento a tre quarti è andato giù ma io posso condividere un suo proprio abstract di tre pagine che riporta proprio il suo intervento e da un ecosistema mediale dove quindi abbiamo visibile attraverso le narrazioni i nostri comportamenti che diventano storia e diventano percezione ovvero reputazione ho l'onore e l'emozione anche di poter introdurre colui che è un caso di studio perché io parlo sempre è fantastico lo devo a una bravissima laureanda che è Liliana Malimpensa questo contatto questa amicizia sul caso Eni verso Report dove ha utilizzato Eni l'ecosistema mediale per fare un canale parallelo con un caso proprio che ho affrontato questo lunedì con gli studenti quindi averti qui anche per loro pensare che siamo 180 collegati io ho il terrore che salti da un momento all'altro tutto ho il terrore speriamo di no speriamo di no ecco ruolo io posso comunicare che mi hai detto che adesso anche questo è un'evoluzione io infatti ho scritto già direttore della comunicazione PR dipartimento per l'innovazione la digitalizzazione della presidenza del consiglio docente e contratto presso iuse adesso però lascio con grandissimo piacere veramente a te la parola grazie 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 a te Nicola grazie dell'invito io ho seguito l'intervento del professor Savittarini sì la questione è stato un po' il momento culmine della mia carriera ma in realtà è il risultato di un lavoro anche complesso lungo io devo dire che ascoltando l'intervento della professoressa Savittarini mi si sono accese tantissime lampadine mi sono venute tantissime idee mi ha stimolato molto io volevo partire proprio dal concetto dell'universo mediale dei ruoli delle piattaforme come produttori come protagonisti ormai della sfera culturale del modo in cui noi in qualche maniera entriamo in contatto con le informazioni in quanto tale e quindi quanto questo influisca nel nostro modo di conoscere la realtà proprio per cercare di spostare un attimo l'attenzione su un tema che a me è particolarmente caro e che a mio modo di vedere è fondante del concetto di reputazione oggi che è quello sul quale io in qualche maniera mi sto specializzando da un punto di vista di studio e di divulgazione se vogliamo usare questo termine tutta la dotta dissertazione della professoressa Savittarini ci ha costruito uno scenario assolutamente reale rispetto a quello che ci troviamo di fronte tutti i giorni e al ruolo delle piattaforme del modo in cui le piattaforme non sono solamente delle appunto piattaforme tecnologiche che abilitano delle funzioni in questo caso abilitano la diffusione di informazioni bensì sono diventate tutti gli effetti dei soggetti che che non solo si limitano a distribuire in senso lato il contenuto ma alla fine lo inseriscono in un contesto cognitivo ecco io da qui vorrei partire cioè vorrei partire da una osservazione che spero che la professoressa accolga dal punto di vista dell'arriomamento speculativo diciamo che prende prende il passo da dove lei si è fermata per andare un pizzico avanti ho usato il termine cognitivo non a caso perché in realtà quello su cui vorrei cercare di attirare vostra attenzione è proprio il modo in cui le piattaforme le piattaforme digitali ma non solo le piattaforme digitali diciamo tutto il contesto che si è venuto a creare dopo l'avvento degli smartphone e l'esplosione dei social network intesi come fenomeno globale quindi stiamo parlando dell'anno 2007-2008 gli anni 2007-2008 2007 a luglio quando fu presentato il primo smartphone tra il 2007-2008 l'esplosione di Facebook come fenomeno globale questi due eventi hanno si modificato profondamente lo scenario da un punto di vista tecnico e da un punto di vista dell'universo mediale inteso come strutture in grado di veicolare informazioni ma a mio modo di vedere hanno modificato profondamente il nostro modo di conoscere la realtà perché dico questo perché in realtà prima dell'avvento del primo smartphone quindi del primo iPhone e di tutti quelli che ne seguirono il web digitale era rinchiuso dentro un preciso perimetro spazio temporale che era quello del nostro computer attraverso il quale noi accedevamo effettivamente a un mondo virtuale che non aveva limiti né di tempo né di spazio ma il problema è che questa illimitatezza del tempo e dello spazio era limitata a sua volta dal device che noi dovevamo utilizzare che per suonatura era difficilmente trasportabile e comunque chiedeva una dedizione un'attenzione una partecipazione completa e complessiva e faceva sì che la nostra realtà fisica cioè quella che noi vivevamo tutti i giorni compresa le esperienze tipo psicologico e sociale e cognitivo che noi avevamo e sviluppavamo tutti i giorni proprio quotidianamente fossero qualcosa di profondamente diviso dalle realtà o meglio dalle esperienze che noi facevamo all'interno di questo mondo virtuale che per suonatura era chiuso in una sorta di bottiglia di vetro dove noi potevamo viaggiare si diceva navigare ai tempi per poi scollegarci tornare a terra chiudere spegnere il computer e continuare la nostra vita normale cosa ha fatto lo smartphone lo smartphone ha liberato internet ha liberato il web dalla costrizione spazio temporale del device che serviva per accedergli e di fatto che cosa ha comportato comportato che il web è diventato sempre più è diventato il digitale è diventato sempre più ha innervato sempre più la nostra realtà tutta la nostra realtà sino ad arrivare a quella che io definisco oggi il concetto di infosfera una realtà nel quale digitale e analogico reale e virtuale siano di fatto la stessa cosa si influenzano a vicenda si piegano a vicenda si deformano a vicenda creando un nuovo contesto di realtà ora questo sembra un approccio un po' sociologico se vogliamo in realtà lo è tanto da un punto di vista sociologico perché proprio il problema che io sto cercando di analizzare è proprio un problema di tipo sociologico ma anche di tipo sociologico e cognitivo in che senso che tutto quello che la professoressa Vittadini ma in generale noi facciamo ha descritto e noi facciamo come esperienza quotidiana è il risultato di un nuovo modo in cui veniamo a conoscenza della realtà cioè conosciamo la realtà e la realtà è profondamente influenzata da quello che noi vediamo anche e soprattutto dal digitale attraverso il digitale attraverso la la rappresentazione del mondo che il digitale ci restituisce questa rappresentazione del mondo è una rappresentazione del mondo necessariamente e purtroppo spesso e volentieri diversa da quella che è la realtà fattuale cerco di spiegarmi ciò che l'idea la percezione adesso Nicola prima introducendo mi ha usato il termine percezione la percezione che noi traiamo da tutto ciò che ci circonda è mediata dal suo passaggio sul digitale e questa mediazione del digitale fa sì che noi ci creiamo una immagine della realtà che spesso e volentieri è differente e diversa da quella che è la realtà fattuale è un po' il mito della caverna di Platone perché ci convinciamo che la realtà siano le ombre proiettate sul fondo della caverna quando in realtà perdonate il gioco di parole la vera realtà è ciò che scorre alle nostre spalle davanti ai fuochi che proiettano le ombre che cosa voglio dire con questo voglio dire che noi ci troviamo in una realtà nella quale le piattaforme non hanno solamente un ruolo da un punto di vista di diffusione e quindi una responsabilità dal punto di vista di diffusione delle informazioni stanno via via sempre più avendo un ruolo che è ancora più pregnante nel modificare il modo in cui noi conosciamo la realtà perché le informazioni noi non ci limitiamo semplicemente a vederle i social network i device che utilizziamo coinvolgono da un punto di vista della percezione tutti i sensi direttamente o indirettamente il tatto la vista l'udito il tatto perché noi interagiamo fisicamente con i contenuti non so se ci avete mai pensato ma facendo tap sui device noi interagiamo direttamente sui contenuti interagiamo in maniera fisica con i contenuti li leggiamo ovviamente li guardiamo li ascoltiamo né ci evocano odori e sapori per cui il nostro universo percettivo il modo in cui noi sensorialmente entriamo in contatto con la realtà è anche soprattutto sul digitale ed è deformato dal digitale stesso cosa accade che ovviamente se noi ci troviamo in una realtà nella quale tutto trasparente quindi tutto viene visto perché questo è il concetto fondamentale e la vera novità che le piattaforme da un punto di vista cognitivo ripeto hanno portato è che hanno reso trasparente tutto ciò che noi facciamo ma non solo hanno reso trasparente tutto ciò che noi facciamo hanno reso trasparente il modo in cui tutti quanti noi reagiamo a ciò che vediamo in buona sostanza noi è come se fossimo costantemente inseriti in una dimensione di folla in una dimensione di massa come i psicologi di massa sanno benissimo noi all'interno di questa realtà tendiamo a subire l'influenza sociale in maniera molto forte e a subire l'influenza di essere all'interno di un gruppo numeroso di persone che tendono a muoversi in maniera che non è il risultato della somma delle decisioni di ciascuno degli individui che costituisce questo gruppo ma è una sorta di decisione collettiva ecco allora la collettivizzazione delle decisioni la collettivizzazione delle interpretazioni la collettivizzazione dei processi che dalle interpretazioni si mettono in moto è la vera novità che le piattaforme social e la liberazione del web attraverso gli smartphone hanno portato nel nostro universo cognitivo perché tutto questo perché o meglio che cosa significa tutto questo significa che noi da un punto di vista comunicativo tendiamo a giudicare a reagire e a giudicare in maniera istintiva a volte superficiale comunque emozionale ciò che vediamo di fronte a questa grande ciò che ci appare di fronte in questa grande messa in scena che le piattaforme sono in grado di produrci messa in scena che ovviamente e ne parleremo se avrò il tempo è guidata è influenzata presentemente anche da degli elementi di tipo tecnologico che sono propri delle piattaforme e lo vedremo parlo degli algoritmi ma al netto degli algoritmi noi entriamo in contatto con delle informazioni entriamo in contatto con dei contenuti questi contenuti sono elementi che ci costruiscono la nostra visione della realtà il problema qual è? è che noi non vediamo solamente il contenuto e quindi reagiamo sulla base di aspetti culturali estetici emozionali in base a quello che vediamo che è quello che il contenuto ci evoca o che significa per noi ma vediamo come tutti gli altri reagiscono allo stesso contenuto e questo vedere la reazione di tutti innesca questa collettivizzazione della costruzione del significato questa collettivizzazione questo essere in tanti a decidere che cosa significhi qualcosa o se sia giusto o se sia sbagliato se sia moralmente accettabile o sia moralmente inaccettabile se sia divertente o non divertente se sia offensivo o non offensivo innesca che cosa un'interpretazione di ciò che sta accadendo e la costruzione di una narrazione di ciò che accade quindi nella sostanza dei fatti noi ci troviamo all'interno di una realtà che non solo autogenera l'interpretazione di ciò che vede di se stessa ma in più si autoproduce la propria narrazione perché tutto ciò che noi vediamo sulle piattaforme social è per la maggior parte prodotto da noi stessi siamo noi che mettiamo in linea i contenuti siamo noi che scriviamo i post siamo noi che scriviamo i tweet siamo noi che mettiamo i like siamo noi che commentiamo e questo costruire un universo simbolico siamo noi stessi a interpretarlo si crea quindi una realtà in qualche modo autogenerata autosufficiente una sorta di energia perpetua anche se i fisici mi mi bocchetteranno perché sanno perfettamente che l'energia non può essere perpetua che costruisce una realtà che è quella che noi abbiamo davanti agli occhi il fatto che questa realtà venga costruita su piattaforme che funzionano tecnologicamente in un modo lo vedremo tra un secondo e che sono proprietà di pochi potentissime aziende crea una distorsione una distorsione reale quindi diciamo che ci sono tre aspetti sostanziali che io vorrei mettere a terra e che vorrei provare ad approfondire da una parte la collettivizzazione dell'interpretazione della realtà attraverso l'esposizione di questa e l'esposizione dei fenomeni sociali che scaturiscono da questa esposizione che fanno sì che noi ci creiamo collettivamente subendo l'influenza sociale ci creiamo collettivamente un'idea di quello che sta accadendo dall'altra parte gli aspetti tecnologici che guidano influiscono e piegano questo tipo di se vogliamo di dinamica e la fanno diventare tutti gli effetti una costruzione un effetto collaterale di qualcosa che in realtà gli algoritmi vorrebbero raggiungere ma che hanno come che ha come effetto collaterale quello che qui sotto spiegare il terzo aspetto è l'impatto che questo ha su di noi l'impatto che questo ha su di noi è un impatto tutt'altro che trascurabile perché ci crea quello che ormai i sociologi della comunicazione digitale hanno ben identificato da tempo cioè creano sostanzialmente tre fenomeni la polarizzazione delle posizioni una polarizzazione sempre più forte la chiusura la nostra chiusura all'interno dell'eco chamber quindi di queste sorte di camere dell'eco che nascono da quelle che vengono chiamate le filter bubble cioè le queste queste situazioni percettive che creano che vengono create dagli algoritmi stessi provo a fare una sintesi di tutto quello che sto dicendo partendo dal concerto di reputazione perché in tutto questo io non ho mai nominato la reputazione ma è a tutti gli effetti il pilastro di funzionamento di questo ecosistema perché perché se è vero che noi ci costruiamo in maniera collettiva il significato il giudizio su qualcosa su qualcuno questa costruzione collettiva questa sentenza collettiva nei confronti di qualcosa di qualcuno deriva da come noi percepiamo quindi da come questo gruppo percepisce e comprende ciò che vede questa percezione la sentenza che ne scaturisce è a tutti gli effetti la reputazione cioè noi abbiamo al centro del funzionamento di questo meccanismo quello che collettivamente pensiamo di un soggetto la grande novità è che non si parla più solo di reputazione del soggetto inteso come persona umana che è una cosa normale che sperimentiamo tutti i giorni noi nella nostra esperienza pluriquotidiana ma all'interno di questo sistema ci sono tutti i soggetti aziende enti organizzazioni istituzioni professionisti personaggi politici tutto ciò che in qualche maniera si possa definire soggetto è soggetto alla sentenza valoriale del contesto della comunità nella quale agisce proprio perché questa comunità può agire in base al fatto che le piattaforme tecnologiche diffondendo come diceva giustamente la professoressa Vittalini in maniera massiva informazioni in realtà abilitano anche la conversazione su queste informazioni abilitano anche il giudizio su queste informazioni e quindi trasferiscono di netto le dinamiche di tipo psicologico e di tipo psicologico cognitivo all'interno di un universo digitale questo aspetto è ad oggi l'elemento più rilevante di cambiamento della comunicazione corporeta in generale della comunicazione e ancor più nello specifico è l'elemento centrale sul quale tutto il mondo sta iniziando a concentrarsi per riuscire a governare e a costruirsi la giusta reputazione come ci si costruisce la reputazione governando la percezione di se stessi il governo della percezione di se stessi è qualcosa di estremamente complesso che passa dalla capacità di comprendere nel profondo quali siano le sensibilità le caratteristiche i bisogni le esigenze delle comunità alle quali ci rivolgiamo prevedendone quindi la reazione a fronte di quello che noi andiamo a esporre nei loro confronti non è niente di diverso dalla scelta del vestito la mattina che noi facciamo sulla base a parte del clima ovviamente facciamo sulla base del luogo dove dobbiamo andare e delle aspettative degli altri di come noi ci presenteremo vestiti e quindi sulla base di quello noi sceglieremo il vestito più adatto per far sì di essere in qualche maniera accettato e quindi di mantenere quella buona reputazione che abbiamo o pensiamo di avere questa dinamica non riguarda come dicevo solamente più soggetti ma riguarda anche e soprattutto le aziende e questo è rilevante perché cambia completamente l'approccio perché anche in questo mondo in questo contesto non ci sono solamente le aziende che fanno comunicazione passatevi il termine interessata da un punto di vista commerciale dentro questo sistema si sono anche i media i media sono dei brand sono percepiti i commentali ci sono i giornalisti ci sono anche i produttori dell'informazione che devono a loro volta guadagnarsi la reputazione per essere accettati ed essere in grado di esplicitare il proprio proprio ruolo e quindi di essere giornalisti e quindi di essere editori di essere giornali perché non tutto niente più è scontato ma tutto viene giudicato e tutto viene masticato da questi processi interpretativi e giudicativi che sono collettivi assodato questo spero di aver in qualche maniera risposta alla domanda iniziale di Nicola assodato questo in che modo le piattaforme tecnicamente entrano in gioco da questo punto di vista mi riferivo prima agli algoritmi allora gli algoritmi sono l'elemento realmente incontrollabile lato nostro e realmente più pericoloso che in questo momento presente in questo momento nel nostro universo di riferimento cos'è un algoritmo della piattaforma l'algoritmo della piattaforma sapete che l'algoritmo è un insieme complesso di operazioni semplici il cui esito non è prevedibile in questa definizione tecnica l'algoritmo qual è l'obiettivo degli algoritmi di Facebook poniamo Facebook come esempio l'obiettivo dell'algoritmo di Facebook è soddisfare l'esigenza primaria di Facebook cioè far sì che l'utente rimanga sulla piattaforma perché è necessario che l'utente rimanga sulla piattaforma perché più tempo ci rimane più cose farà sulla piattaforma più Facebook riuscirà a tracciare le sue abitudini a identificarlo clasterizzarlo quindi identificarne il profilo e vendere questo profilo come inserzione pubblicitaria al giusto inserzionista nello specifico se Facebook si accorge che io sono un appassionato di giardinaggio e disegna il mio profilo come appassionato di giardinaggio io diventerò un obiettivo in termini di comunicazione da parte di aziende che fanno prodotti per giardinare e fin qui va bene qual è il problema è che per ottenere questo risultato gli algoritmi di Facebook cosa fanno? fanno un ragionamento molto semplice devono capire cosa mi piace e quindi registrano le mie scelte nel momento in cui registrano le mie scelte e quindi capiscono che a me piace il giardinaggio cominceranno a fornirmi sempre più informazioni che riguardano il giardinaggio con l'obiettivo di tenermi sulla piattaforma dove io troverò continuo a trovare troverò sempre di più temi contenuti approfondimenti della cosa che a me piace e questo è un aspetto tecnico che ha poco a che fare in realtà con l'informazione perché anzi se la vediamo da un punto di vista più ampio il fatto che io entri in contatto con informazioni che mi interessano è un servizio che la piattaforma fa da me perché mi fa nei miei confronti perché mi mi impedisce mi toglie il problema di dovermela andare a cercare questa informazione me la porta a casa me la serve a casa il problema qual è? è che se io comincerò a vedere costantemente argomenti che riguardano il giardinaggio sul mio stream di facebook tanto per rivedere un esempio cambierà la mia percezione della realtà o meglio cambierà la percezione dell'importanza relativa del tema del giardinaggio rispetto ad altri temi quindi io comincerò ad avere la percezione che il mondo parli di giardinaggio che tutti parlino di giardinaggio che il giardinaggio sia il tema più importante in quel momento quella è la bolla da filtro la filter bubble cosa comporta questo? comporta che io tenda ad avere una visione distorta della realtà e sulla base di questa visione distorta della realtà mi comporti allora io ho fatto l'esempio del giardinaggio che non ha un valore sociale ma c'è un esperimento bellissimo riferito all'ultimo referendum confirmativo che c'è stato in Italia che ha dimostrato come soggetti che interagivano costantemente con persone e con contenuti che parlavano sostenevano il no al referendum confermativo costituzionale che c'è stato recentemente alla fine l'algoritmo leggendo imparando da queste scelte che quella persona a quella persona piaceva quella tipologia di contenuti costruivano una realtà sulla sullo stream di facebook di quelle persone che le portava intervistate all'atere le portava a dire sicuramente vincerà il no è evidente tutti parlano del no tutti sono d'accordo sul no e voi sapete perfettamente come andò a finire allora questo spostamento della percezione della realtà è l'effetto più importante che come abbiamo visto è un combinato disposto fra un fenomeno sociale tra tutto in digitale e una interazione delle tecnologie all'interno di questo di questo fenomeno è l'effetto più potente che stiamo vivendo noi in questo momento da un punto di vista non tanto proprio da un punto di vista della costruzione della nostra realtà perché perché se questo lo ribaltiamo o meglio assumiamo che queste dinamiche che io vi sto riuscendo molto velocemente ovviamente chiederebbero ben altro approfondimento ma spero di riuscire a disegnare un quadro abbastanza chiaro queste dinamiche se utilizzate in maniera non etica creano quelle dinamiche di deviazione del consenso e di manipolazione della percezione della realtà che sono alla base del fenomeno dei fake news o peggio creano quei processi innescano quei processi interpretativi che sono lesili della reputazione di un soggetto piuttosto che di un altro stando alle fake news se tutti quanti se noi viviamo in bolle da filtro che ci fanno credere che l'immigrazione sia un male perché tutti gli immigrati sono violenti questo è un esperimento dell'università di Urbino a portati di sociologia e noi tendiamo a pensare che in realtà essendo avendo di noi una visione della realtà distorta per i motivi che vi ho detto prima inevitabilmente saremo preda facile di chi conoscendo queste dinamiche ci metterà davanti agli occhi dei contenuti che seguono queste paure che le alimentano e che in qualche maniera propongono delle soluzioni di tipo drastico adesso forzando l'esempio finendo per costruire dove c'è per esempio un consenso politico per una parte politica piuttosto che un'altra sulla base di tutta una serie di aspetti che sono legati alla percezione vedo riapparire Nicola che immagino mi stia abbattendo il tempo in questo senso più o meno allora cerco di andare in conclusione velocemente il ciò che conta effettivamente quindi è renderci conto che tutto questo sistema non solo è una novità assoluta dal punto di vista dell'impianto mediale e del sistema mediatico ma sta profondamente modificando il nostro modo di conoscere la realtà diventarne consapevoli quindi capire che siamo tutti dentro dell'eco chamber e che tendiamo a vedere solamente le cose che cerchiamo e che gli algoritmi ci ribadiscono in maniera quasi ossessiva sapere questo e tentare di rompere questa dinamica per andare a guardare fuori che cosa succede e quantomeno riequilibrare i pesi relativi rispetto a ciò che sta accadendo è secondo me uno degli aspetti più importanti da un punto di vista della formazione culturale generale che va portata avanti e uno degli aspetti più importanti che andrebbe veicolata nel sistema scolastico e nel sistema educativo nazionale perché io ho la fortuna di insegnare all'università e ho avuto modo anche di avere contatti con studenti di grado inferiore quindi più giovani il problema dei nativi digitali delle famose generazioni X, Y, Z adesso non ricordo neanche più quali siano però diciamo dei nativi digitali dei ragazzi che sono nati quando il digitale era già ciò che stiamo conoscendo in questo momento e che sono come i pesci di McLuhan cioè sono completamente inconsapevoli dell'acqua in cui nuotano questa inconsapevolezza è un problema enorme perché se da una parte li espone a tutta una serie di rischi manipolativi come quelli delle fake news che ho provato ad arbozzare prima dall'altra impedisce loro di sfruttare delle potenzialità enormi che invece ci sono anche da un punto di vista dell'arricchimento culturale in quanto tale quindi mi taccio veramente e concludo il mio piccolo intervento attirando la vostra attenzione su un nuovo sistema mediatico sul fatto che al centro di questo sistema mediatico ci sia la reputazione e che la reputazione sia il risultato di un processo sociale collettivo che si basa sulla percezione sulla costruzione collettiva del significato grazie grazie a te io intitolerei il tuo intervento citando il titolo di un film oltre il giardino visto che hai citato il giardinazio c'è una persona che vive in una bolla che fa il giardinazio che si chiama anche Gardner e esce Peter Sellers esce dal suo mondo si trova in un'altra bolla con altri algoritmi e non avendo scheletri nell'armadio dando delle risposte assurde ma perché credono siccome si veste bene dotato di un grande senso e profondità si trova alla fine tra i candidati alla Casa Bianca è vero è vero e proprio secondo me è basilare sulla comunicazione ed effettivamente è quello possiamo ritrovare questo esempio infatti lui vive in una casa di schermi tra l'altro dove accende spegne continuamente la televisione e si isola nel suo mondo grazie guarda grazie veramente per l'interessante l'entusiasmante intervento adesso con grande anche piacere passo la parola a Massimiliano Moschin docente sia presso lo USWE e anche presso i nostri corsi di laurea e anche diciamo consulente di marketing e comunicazione grazie Massimiliano a te lascio la parola per il tuo intervento di chiusura poi farò io una chiusura sommatoria buongiorno a tutti cercherò di essere molto veloce in modo da lasciare anche il tempo poi alla fine per qualche domanda comincio condividendovi una piccola presentazione che ho preparato che mi aiuterà in questo percorso confermatemi che la vedete così sono sicuro benissimo allora adesso vediamo rapidamente un approccio come dire di un po' di cose di cui abbiamo già trattato attraverso gli interventi di tutti quanti quelli che mi hanno preceduto però vedremo come dire l'approccio in cui si sposano le piattaforme digitali con l'esperienza online e con il tracciamento proprietico all'advertising allora innanzitutto partiamo da faccio la domanda ma cos'è diventato internet cioè internet è qualcosina che ormai ci portiamo dietro da un bel po' anche se come dire è da decenni che resta la novità del momento in realtà ormai è un prodotto maturo in quella che è la sua struttura perché diciamo la prima comparsa di quello che era un prototipo di quello che ci sarebbe si sarebbe poi sviluppato decenni dopo è comparsa nel 69 con Arpanet quindi parliamo come dire di un bel po' di tempo essenzialmente però diciamo che internet dal 69 io ho qui inserito il 99 in realtà è un po' proprio il 95 con Windows 95 che me lo ricordo il primo sistema operativo su cui io smanettavo da ragazzino diciamo è rimasto abbastanza coerente con se stesso cioè era come dire una grande rete che metteva in connessione ma dove mancava essenzialmente una componente potentemente espressiva da parte degli utenti e anche dove c'erano come dire delle componenti di espressione quindi pensiamo alle prime i primi proto social network come potremmo definirli quindi le BBS i gruppi di discussione su Usenet le stesse le stesse micro reti che perché dobbiamo pensare che in quegli anni non è non bastava attaccare una presa al muro per poter navigare era molto più complesso o ai primi prodotti studiati per l'interazione come il Minitell ad esempio essenzialmente internet è rimasta abbastanza coerente con se stessa la grande svolta è iniziata col 99 perché nel 99 esce famoso e ultra citato volume il crew train manifesto di un gruppo di persone che lavoravano in Silicon Valley quindi che hanno capito prima degli altri che piega avrebbe preso lo sviluppo del web succede un altro po' di cose avviene il mancato millennium bug cioè la paura del reset col nuovo millennio ma soprattutto avviene la prima grande speculazione finanziaria sui prodotti dot com con l'esplosione dei titoli sul Nasdaq e la conseguente crisi azionaria essenzialmente in questa prima fase questa prima svolta la società probabilmente non era ancora matura però inizia a come dire prendere piede un paradigma diverso perché non siamo più noi solamente a guardare uno schermo ma è un po' lo schermo che guarda noi perché questo perché si inizia a capire che internet può diventare un incredibile veicolo di studio delle persone uno studio che poi chiaramente ha risvolti di tipo commerciale quindi cambia completamente il paradigma partiamo da un primo concetto di internet in cui si tratta di una rete che mette insieme conoscenza connette poli di informazione e li rende disponibili a un secondo momento in cui il focus è sulle connessioni quindi si riconosce il ruolo delle persone online e si riconosce l'importanza di metterli insieme in dialogo fra di loro fino al momento che conosciamo ormai tutti che è quello dedicato alle soddisfazioni cioè il paradigma che noi viviamo tutti i giorni è quello dove internet è sviluppato per soddisfare dei nostri bisogni che siano di tipo informativo o di tipo merceologico ma oggi è completamente spostato su questo aspetto e questo perché? perché sono cambiati anche i soggetti è cambiato il modo di essere online siamo partiti da una logica in cui la prassi essere un avatar non una persona online ha una semi svolta con i primi fenomeni come MySpace non so se quanti di voi se lo ricordano ma è stato secondo me uno spartiacco incredibile da questo punto di vista dove si iniziava a ricostruire in modo chiaro un'identità personale parziale aperta alla collettività fino ad oggi dove siamo tranquillamente abituati a un'identità totale cioè sul web noi siamo noi stessi o meglio siamo una trasfigurazione della nostra persona fisica ma siamo i profili con cui noi interagiamo buona parte delle volte sono chiaramente riconducibili a una persona fisica questo è un passaggio non banale non secondario e probabilmente non abbastanza esplorato nello studio critico come prima parlava il professor Morcellini perché da qua nasce tutto perché perché se io riesco a comprendere gli utenti e a identificarli riesco a fornire delle risposte chiare ai loro bisogni ed è per questo che si iniziano a sedere gli utenti e come si fa si fa attraverso gli utenti che sono di tipo tecnologico cioè banalmente attraverso i pluri premiati e pluri celebrati cookie di tracciamento della navigazione quindi ad esempio il motivo per cui noi vediamo determinate cose a livello pubblicitario all'interno della nostra navigazione è perché abbiamo visitato delle proprietà digitali abbiamo fatto o non abbiamo fatto determinate azioni quindi capiamo che il nostro essere online non è più un qualcosa di passivo dove noi vediamo dei contenuti è qualcosa di interattivo perché interagiamo ma soprattutto nelle nostre interazioni veniamo tracciati e veniamo categorizzati come specifiche audience come specifici cluster pubblicitari e questo è rivoluzionario anche perché abbiamo a che fare con delle piattaforme che seguono delle morfologie specifiche abbiamo due casi prevalenti quello di un oligopolio di servizi funzionale qui ho messo non a caso come esempio i tre player della rete ferroviaria italiana perché perché anche se la rete esiste la rete ferroviaria non è che noi possiamo scegliere come vogliamo di utilizzarla ma siamo vincolati a scegliere tre opzioni sulla questa falsa riga il modo con cui noi navighiamo online è veicolato a dei provider che ci danno dei servizi per rendere possibile e fluida e semplice la nostra navigazione banalmente browser e motori di ricerca però è chiaro che quando noi scegliamo uno di questi vettori per navigare siamo vincolati al servizio che loro ci offrono banalmente quando prendiamo il treno non è che possiamo scendere dove vogliamo scendiamo dove ci porta il treno ed è così soprattutto per i motori di ricerca noi vediamo quello che il motore di ricerca ci consente di vedere ma attenzione che è una minima percentuale di quello che offre internet e poi molto importante è che la concettualizzazione delle piattaforme noi siamo all'interno di veri e propri frame cornici sensoriali chiuse ecosistemi i social network sono piattaforme chiuse mi ha molto colpito quando tiktok ha iniziato la sua penetrazione massiccia in italia perché era l'unico social network al momento che permetteva da non registrato di vedere contenuti questa future è stata mantenuta per un periodo adesso non è più così se voglio vedere i contenuti devo registrarmi cosa vuol dire questo? vuol dire che queste piattaforme sono chiuse se io ci voglio entrare devo dichiarare la mia identità e una volta che ho dichiarato la mia identità ho chiaramente un profilo su cui vado a costruire tutta una serie di dati di informazioni e di tracciamenti e come qualcuno di me ha detto precedentemente il valore che io do a una piattaforma è proporzionale a quanto tempo ci sto dentro e a quante informazioni ci riverso dentro e l'advertising chiaramente ringrazia perché perché se noi siamo in grado di tracciare tutte queste cose in maniera più o meno chiara ma soprattutto siamo in grado di creare un identikit di persona di potenziale consumatore ovviamente attraverso il tracciamento e il mettere insieme dati diversi perché sappiamo che oggi non bastano più i dati sociodemografici sono molto più importanti quelli di tipo psicografico cioè come le persone pensano come le persone sentono le cose non tanto quanti anni hanno quanto pesano o dove abitano questo è il gran differenziale quindi la pubblicità ringrazia perché perché consente di fare un advertising sempre più targettizzato la cosa importante è capire questi dati che vengono raccolti come vengono utilizzati ed esserne come dire un attimo consapevoli prima di avere un atteggiamento da integrati o apocalittici verso la pubblicità digitale allora questi dati vengono utilizzati essenzialmente per avere delle analisi di performance dei servizi e questo è come dire la cosa più normale perché qualsiasi prodotto di tipo informatico registra le operazioni che vengono questo banalmente per verificarne l'ottimo funzionamento quindi su questo non dovremmo spaventarci più di tanto ma nemmeno sul resto in realtà perché viene tracciato quello che noi facciamo e quindi conseguentemente quello che noi indirettamente decidiamo di rendere tracciabile quindi ad esempio vengono tracciate le nostre azioni all'interno di un e-commerce se facciamo o non facciamo qualcosa molte volte avrete visto quando andate su Amazon non acquistate qualcosa poi siete perseguitati da tutta una serie di banner che cercano di riportarvi all'interno della piattaforma l'analisi e il tracciamento poi è alla base di quella che è la tecnologia più avanzata nell'advertising digitale che è quella del real-time marketing cioè quello di attraverso il programmatic advertising di riuscire a proporre una comunicazione personalizzata in base alle scelte e ai gusti dell'utente vi sarà capitato molte volte magari provate a confrontarlo vicino a un'altra persona se andate nello stesso portale non vedrete le stesse pubblicità ma banalmente anche se navigate da un dispositivo a un'altra non vedrete le stesse cose questo perché perché le operazioni di navigazione le scelte di acquisto e tutto quello che riguarda l'interazione con i contenuti che fate su diversi sono diversi perché il tracciamento avviene a partire dall'inizio IP cioè dall'identità digitale di quella piattaforma chiaramente qui il ruolo è molto importante quello dei player di chi traccia vi faccio subito un esempio molto semplice nel 2016 l'università di Princeton fece una ricerca relativamente all'analisi dei principali strumenti di tracciamento installati sulla maggior parte dei siti del web bene furono rilevati 81.000 diversi traccianti 81.000 i famosi cookie di terze parti o i tracciamenti di terze parti cioè soggetti che non corrispondono non sono di proprietà del sito in cui si naviga ma sono altri soggetti ok la cosa interessante era che i primi 5 erano tutti quanti di Google su 81.000 e i pixel fra i traccianti maggiormente installati il 70% dei siti del web navigabili aveva i tracciamenti di Google Analytics e il 50% dell'allora double click che adesso è fa parte della marketing suite di Google che è la divisione diciamo di advertising programmatic di Google e quindi siamo come dicevo prima anche qui siamo in un regime di oligopolio pochissimi player molte informazioni in realtà il tracciamento non è una vera e propria catastrofe per la privacy in Europa siamo protetti da GDPR da ormai un anno e mezzo circa e quindi siamo consapevoli se leggiamo l'informativa ogni volta che visitiamo un sito di cosa viene tracciato a che scopo da parte di chi e possiamo selezionare cosa a cosa diamo il consenso o meno e non è una catastrofe nemmeno all'interno dei social network quando siamo noi a scegliere cosa vedere e conseguentemente per cosa essere clasterizzati il problema vero è per chi fa ricerca online per chi fa ricerca sociale applicata a questo tipo di strumenti perché perché purtroppo sono l'informazione non ha un accesso libero ed è molto interessante perché oggi non possiamo più parlare di digitale scollegato dal reale perché in questo grafico che potete vedere questo indica la crescita del tempo sul mercato statunitense che gli utenti passano attaccati ai media digitali quindi la parte gialla rappresenta il mobile la parte verde rappresenta il desktop la parte blu le altre tecnologie o le regate all'IoT per esempio o iWearable vedete che più di 6 ore al giorno vengono passate connessi quindi questo vuol dire che chi fa ricerca sociale chi studia i comportamenti non può prescindere da poter analizzare anche questa parte perché diventa un aspetto fondamentale della vita delle persone e perché questo è vincolato perché l'accesso ai dati viene stabilito attraverso l'API Application Program Interface cioè le regole che i proprietari delle piattaforme stabiliscono per il dialogo e per l'accesso ai dati e siccome sono piattaforme chiuse come dicevamo prima molto diversamente da quello che qualcuno che si ricorda magari i forum che erano nella maggior parte delle volte piattaforme aperte o semi aperte chi detiene una piattaforma decide che API mette a disposizione e cosa far vedere o cosa non far vedere questo qualcuno l'ha citato prima anche il caso di Cambridge Analytica essenzialmente ha avuto un acuirsi questo fenomeno di chiusura perché prima del 2018 era possibile fare analisi all'interno di qualche piattaforma di social network in maniera abbastanza verticale a seguito di questo scandalo dove informazioni venivano non rubate ma venivano prese in maniera fraudolenta agli utenti da questa società venivano poi utilizzate per influenzare l'opinione di voto al fine di manipolare alcune campagne elettorali quindi Facebook a seguito di questo scandalo cosa ha fatto non è che ha fatto un'analisi critica ha detto beh forse magari dovremmo come dire certificare chi ha accesso meno alle nostre API chiudiamo la maggior parte delle API e fine della questione e quindi è iniziata quella che Bernard Rieder definisce come Apicalypse cioè è molto difficile avere accesso alle informazioni per avere uno studio di quello che si svolge all'interno di queste piattaforme e chiaramente uno studio poi prevede anche come dire un'analisi critica di alcuni fenomeni che può essere solamente che d'aiuto quindi io ho finito la mia presentazione e finisco con questa battuta non dobbiamo essere terrorizzati dal tracciamento perché dobbiamo ricordarci sempre che siamo noi nella misura in cui esprimiamo determinate azioni determinati gusti o scegliamo o meno di essere tracciati o meno perché ripeto col GDPR siamo tutelati all'interno dei siti che diamo o meno accesso ai nostri dati grazie grazie anche a te anche per essere assolutamente rimasto nei tempi allora io vediamo le tempistiche 46 allora solo una parola chiave perché mi cerca fare un intervento portare tempo magari anche le domande anche se ho visto che su tablet a me non risultavano domande chiedo a quelli degli Uniferpi o chi sta monitorando il tablet conferma e io credo che quello che ci ha condotto se c'è un ecosistema c'è anche un'evoluzione e l'evoluzione di qualsiasi organismo passa attraverso quello che possiamo dire comunicazione comunicazione come scambio se noi andiamo a pensare anche le forme più semplici e più elementari di batteri scambiano informazioni chimiche con l'ambiente e il successo o meno di una forma evolutiva è data proprio dall'interazione di uno scambio casuale con un ambiente l'informazione e ogni differenza che crea a sua volta una differenza sotto il profilo giornalistico è quello che viviamo in un ambiente ad altissima densità informativa sempre col concetto di teoria informazione che genera differenza per cui viviamo in una realtà ad un altissima cambiamento evolutivo per cui ci viene richiesto di essere altamente adattivo e io credo che la comunicazione sia questa perché la comunicazione è perennemente scambio cioè insito già nell'essere umano lo scambio con informazioni privato dalle informazioni qualsiasi essere umano perde proprio il controllo la condizione un suo equilibrio psicologico devastanti sono le esperienze e gli esperimenti anche legati a questa privazione di informazione ora questo sostrato informativo si è esteso sempre per citare McLuhan dalle protesi a protesi connettive alla Levy che è collettiva delle vie connettive alla Decker-Cov viviamo un universo di informazioni in rapidissimo cambiamento allora io vi dico sempre noi possiamo farsi gestire e subire il cambiamento noi possiamo gestire attraverso lo scambio di informazione il cambiamento e possiamo essere identificati attraverso la reputazione che noi riusciamo a trasmettere su come riusciamo a gestire i cambiamenti su quelli che sono i trendsetter i cacciatori di tendenza in questo caso la tendenza evolutiva io vorrei che tutti noi anche grazie all'ascolto degli studenti per questo passerei anche alle domande grazie all'ascolto dei fantastici interventi non fosse solo un momento di guardare ok abbiamo fatto questo siamo bravi stiamo facendo questo siamo bravissimi ma di guardare avanti di costruire scenari possibili mettendo insieme gli strumenti che la comunicazione che il sondaggio che il monitoraggio che la network analysis che il sondaggio sulle persone su prime persone sugli strumenti che utilizzano i comunicatori sulla professionalità della comunicazione e su quello che effettivamente viene richiesto al nostro lavoro sotto gli aspetti della teoria della competenza delle pratiche per riuscire a fare un passo avanti quando noi riusciremo e questo passo avanti sarà dato da una visione di possibili scenari che guardate bene le previsioni quasi sempre non si azzeccano però se tu hai tanti scenari poi riesci a comprendere avere strumenti per prendere in considerazione anche un altro scenario che è quello magari non previsto l'analisi fattoriale di solito fa questo mettere insieme tanti fattori è sempre un fattore fantasma ma c'è e la teoria ha l'intelligenza per uscire a capire quello che non è evidente quello che non emerge ma i dati ti fanno presumere che sia quello e quindi io credo che questi discorsi ci servano proprio questo avere una visione perché avere una visione di quello che richiederà il mondo della comunicazione significa già poter dare delle risposte per cui quello che ed è il grande cambiamento che c'è con l'umanità pensate che finché non c'è la possibilità di viaggiare lontano non c'è lo sguardo anzi e di vedere lontano non c'è il desiderio di andare lontano e così dopo di che invece c'è la nascita della geografia della cartografia che sono tutti strumenti di navigazione di tutti strumenti anche per navigare io mi piacerebbe che tutti insieme ragionessimo nella stessa maniera delle nuove opportunità che ci viene data dalla comunicazione per creare per capire quali saranno le future opportunità e per capire che così guardando avanti saremo noi anche a poterle creare nel classico paradigma sociologico che le conseguenze di quello che si chiede reali sono reali allora iniziamo noi a porre che cosa è reale per almeno nel credere per poi porre delle conseguenze positive io chiedo io ho guardato anche posso riaprire il tablet e quelli chi era c'è del ferpi chi voleva ah benissimo per le domande vuoi fare una domanda Guglielmo che ti vedo comparire così perché se no c'era diciamo la prassi volevo sapere se hanno raccolto dal tablet dal padlet alcune domande grazie facciamo i ragazzi ci sono benissimo Marta poi anche sicuramente l'importante contributo di Guglielmo che io ringrazio e che sotto l'aspetto diciamo di diritto dell'informazione ma anche del diritto di comunicare ciascuno la propria identità linguistica e territoriale è uno dei massimi esperti europei grazie sempre dell'accompagnare dei percorsi insieme che facciamo Marta sì è arrivata una domanda non è specificato per quale relatore ma penso sia riferito all'ultimo intervento di Moschin la domanda cita dal momento che la costruzione del significato e l'interpretazione della realtà sono di natura collettiva ed il singolo sembra essere rinchiuso nella sua ego chamber si può ancora parlare di responsabilità individuale se sì qual è il suo ruolo nell'interpretazione critica e di giudizio della realtà anche riguardo alla reputazione dei vari soggetti che vi operano bellissima domanda bellissima domanda ma ovviamente poi l'ego chamber è la filter bubble per cui io la indizierei non soltanto ovviamente Moschini ma anche a Chieffi perché effettivamente ha parlato lui di filter bubble che è l'equivalente dell'ego chamber e poi ovviamente anche l'autorego l'opinione di Nicoletta io andrei a questo punto essendo solo una andrei in ordine di apparizione so che Mario fino a un certo punto mi ha detto vi seguo però so che poi aveva anche un importante per cui se c'è un segno suo gli diamo la parola anche lui io darei in ordine magari comunque se vuole dire qualcosa la Nicoletta sempre su questa osservazione poi Daniele e poi Massimiliano Nicoletta sono qua allora sono qua grazie ma credo anch'io che la domanda sia molto molto interessante perché tocca un tema che è diciamo ovviamente centrale nella riflessione di tutti e tre l'eco chamber e la filter bubble e le mette in relazione alla scelta individuale all'arbitro individuale allora in realtà diciamo queste piattaforme mi sembra che non possiamo dire che siano totalmente manipolatorie quindi credo che possiamo tranquillamente dire che l'arbitro individuale continua a restare attivo e ad esistere è vero che questi fenomeni la costruzione delle ecocamber delle filter bubble come accennava prima anche Daniele Chieffi certo che ci danno una visione collettiva del nostro pensiero e delle nostre reazioni ma tantissimo anche ci danno una visione polarizzata allora credo che questo sia un po' il punto in cui viene messo in discussione come contribuiscono a farci acquisire una posizione individuale e comunque un'opinione individuale non tanto schiacciandoci dentro una esclusiva dimensione collettiva perché questo non succede ma certamente portandoci verso l'elaborazione di scelte e di posizioni individuali che sono molto polarizzate e che quindi si definiscono soprattutto per differenza e opposizione rispetto agli altri piuttosto che attraverso un processo di negoziazione e raggiungimento di una di una visione comune quindi credo che appunto in questa relazione che chi ha fatto la domanda cercava di di mettere a fuoco questo sia un punto importante e poi lascio anche agli altri grazie Daniele ti sentiamo scusami stavo litigando con il microfono e lato di camera no sono d'accordo con la professoressa Vittadini mi permetto di aggiungere un ulteriore piccolo tassello libero arbitrio se vogliamo usare una categoria non esattamente aderente al digitale libero arbitrio esiste continua a esistere ed è assolutamente centrale nella misura in cui però dobbiamo tenere in considerazione il fatto che noi ci approcciamo alle nostre realtà cognitive e quindi anche le piattaforme attraverso sì le nostre libere scelte ma attraverso anche i nostri bias cognitivi e le piattaforme i bias cognitivi sono in grado non solo di intercettarli ma anche di esaltarli mi spiego bene se parliamo per esempio di confirmation bias che è una delle principali caratteristiche che abbiamo da un punto di vista di rapporto con la realtà il fatto che noi cerchiamo costantemente la conferma di ciò che crediamo e non cerchiamo di capire le cose come stanno da un punto di vista empirico nutre in questo senso l'algoritmo e fa sì che diventino non tanto più delle echo chamber o se vogliamo delle filter bubble ma diventino delle bolle di iperconferma di quello che noi crediamo quindi se noi siamo convinti che il mondo sia blu tenderemo poi a vedere costantemente il mondo sempre di blu perché l'algoritmo ci restituirà un mondo sempre di blu in questo senso concordo con la professoressa Vittadini aggiungo però che il libero arbitrio in questo senso e quindi la libertà di scelta sta nella consapevolezza e quindi nel cercare di rompere noi la filter bubble mi spiego se sappiamo che guardando il nostro stream di facebook avremo sempre quel tipo di risposta se sappiamo che scrivendo perché vogliamo cercare di capire meglio sui vaccini i pericoli dei vaccini ma se scriviamo sulla stream di ricerca di google pericolo vaccini inevitabilmente google ci restituirà per ragioni semantiche che è inutile che spieghiamo adesso dei contenuti che contengano perdonate il gioco di parole pericolo e quindi probabilisticamente sempre più testi addosso che vaccinisti allora noi non stiamo operando la nostra libertà di scelta la libertà di scelta nasce sulla consapevolezza quindi se vogliamo fare una ricerca sui pericoli dei vaccini teoricamente quelli potrebbero essere i pericoli dei vaccini va svuotata la cache smontato il browser reinstallato completamente anonimizzata la ricerca e va scritto vaccino punto però questo chiede una consapevolezza tecnica e culturale che non tutti hanno allora chiudo perché non voglio rubare tempo agli altri colleghi dalla consapevolezza nasce la capacità di operarlo il libero arbitrio perché altrimenti non lo possiamo fare massimiliano eccomi qua molto brevemente sicuramente noi abbiamo un problema come dire tutto italiano relativamente all'educazione digitale perché secondo me abbiamo perso delle tappe perché l'adozione è stata talmente massiccia ma soprattutto importante in quella fascia di cui vi ho parlato prima quindi diciamo dal 99 in poi che l'abbiamo un po' persa di vista e forse non abbiamo capito che in maniera adeguata andava anche formata una generazione all'utilizzo di questi strumenti perché attenzione saperli usare tecnicamente non significa poi saperli usare correttamente a livello di ricadute molto spesso io vedo che le persone non si rendono conto che questi spazi seppur chiusi come le piattaforme sono comunque spazi semi pubblici non sono spazi semi privati quindi già questa già capire capire che io devo avere come dire una costituzione critica del mio essere online anche all'interno di una piattaforma è già un bel punto di partenza successivamente spostandosi poi sul libero arbitrio è chiaro che anche qui le scelte che io faccio nella mia navigazione risentono di quello che io visualizzo cioè l'Italia è credo che sia uno dei mercati più amati da Google perché il 96% 96% delle persone che utilizzano internet in Italia utilizzano Google il 96% ok se io ci sono n motori di ricerca diversi ci sono n anche browser diversi oltre a Chrome Safari ok per citarne più in voga per cui anche qui sviluppare come dire una cultura anche semplicemente di test di provare cioè io vi invito a provare a fare la stessa ricerca come suggeriva Daniele Chieffi su browser diversi utilizzando la navigazione anonima e quella non anonima giusto per capire per capire che quello che noi vediamo è sempre uno spaccato ma non è la totalità di quello che potremmo vedere è una delle tante possibilità queste possibilità da cosa vengono influenzate da quello che i vari algoritmi hanno processato tracciandoci ma anche dal modo in cui io cerco le cose cioè guardate bene che una delle cose più difficili è fare il cerchio ottimale all'interno del motore di ricerca cioè le parole chiave sono molto importanti nella loro combinazione per dare poi un risultato quindi secondo me il libero arbitro è molto importante però è molto importante anche cambiare gli occhiali con cui vediamo la realtà digitale cioè se usiamo sempre lo stesso paio di occhiali vedremo sempre le stesse cose grazie solamente su una cosa sul diciamo sulla responsabilità morale io segnalo il volume disimpegno morale come facciamo del male continuando a vivere bene di Albert Bandura tradotto in Italia da Riccardo Mazzeo ve lo consiglio perché ci sono tutte strategie incluse tecnologiche proprio per allontanare vittima e carnefice Guglielmo cosa ci porti oggi di fragrante di croccante non ti sentiamo ecco ti sento osservazione io mi occupo oltre che di diritto della comunicazione anche di diritto dei mercati finanziari sono un po' perplesso e qui chiedo un approfondimento a Moschim perché l'ho visto molto preparato sui cookies e probabilmente ne sa più di me però sono un po' perplesso e chiedo aiuto su questo per esempio anche a Chiefi che ho sentito vispo su alcuni difetti di questi sistemi e allora intanto c'è un sociologo dovrebbe segnalarmi ecco anche tu Nicola questo aspetto dell'automatismo cioè con i cookies c'è un automatismo e quindi sfido ad avere una consapevolezza di cosa si accetta con i cookies quando c'è questa questo automatismo nella fretta di voler vedere qualcosa poi aggiungo anche un altro elemento occupandomi di diritto di mercati finanziari anche lì c'è il discorso sull'educazione digitale cioè che è colpa della gente che non sa quello che fa e così via ho qualche dubbio perché se noi effettivamente avessimo una consapevolezza di cosa facciamo quando consentiamo il tracciamento spareremmo col fucile a pompa a chi ce lo chiede cioè se noi nella realtà normale troviamo qualcuno che ci viene a dire scusa se tu accetti io ti metto una cavigliera elettronica e ti seguo in tutto quello che fai la nostra risposta sarebbe beh scusami grazie anche no saluti arrivederci ecco invece con questo tipo di approccio cioè l'automatismo e tra l'altro anche il mancato svolgimento dei loro compiti delle autorità amministrative indipendenti che interpretano in questa maniera burocratica avete la possibilità di scegliere sì o no avete accettato voi i cookies no c'è un problema di consapevolezza anche qui io sono un giurista il diritto si applica per le finalità per le quali è stato posto quindi se ci sono degli automatismi che creano una distorsione poi nella situazione che si viene a creare bisogna correggerli bisogna correggerli nel senso che le istituzioni devono fare il loro compito e anche noi dobbiamo cercare di evidenziare come la profilazione sia una cosa che i numeri che ha detto Moskin sono mostruosi cioè se io faccio qualcosa su internet e poi mi trovo profilato da tra l'altro tantissimi soggetti tantissimi soggetti non solo quelli che pensavo google eccetera eccetera ma una moltiplicazione pazzesca è chiaro che non è non è accettabile chiedo scusa ho parlato anche troppo scusatemi grazie allora io farei adesso un ordine anche inverso visto che è iniziato tra i Moskin Daniele se vuole aggiungere qualcosa poi Nicoletta quindi Massimiliano la domanda è giustissima e molto corretta devo dire che prima del GDPR noi sapevamo quasi poco nulla quindi già questo secondo me è un gran passo avanti perché quantomeno adesso i titolari dei domini delle proprietà digitali sono costretti a dichiarare chi è il soggetto che incamera i dati e quindi chi è che lo gestisce e quantomeno a spiegarci in maniera più o meno comprensibile perché poi c'è sempre questo discriminante cosa ne viene fatto va detta anche un'altra cosa giustamente si tratta di un equilibrio fra giurisprudenza economia di mercato e servizi è chiaro che chi utilizza i cookie ha il pieno interesse a tracciare gli utenti perché? perché rivende pubblicità o rivende dati l'utente in cosa ha interesse a venire tracciato perché diceva qualcosa in cambio che sono i contenuti perché badate bene noi siamo stati abituati che su internet è tutto gratis non è che su internet è tutto gratis su internet è gratis quando noi ce li abbiamo io farei una se facessimo un questionario adesso chiederei a quanti di voi almeno una volta nella vita hanno lasciato i propri dati pur di scaricare un software gratis credo una caterva di persone ma non sappiamo dove sono finiti quei nostri dati in che server messo in che isoletta delle Cayman o in qualche altro orcipelago sia finito non lo sappiamo quindi quantomeno devo dire che secondo me il GDPR è un passo avanti sicuramente non è come dire non è il punto di arrivo però va anche detto che i player sono talmente grandi e siamo talmente in un regime di oligopolio in cui è anche difficile andare da Google e imporgli di avere una politica di open data è molto complesso va detto che però se noi vogliamo non essere tracciati è possibile è molto faticoso si può fare e molto probabilmente dovremmo come dire evitare di beneficiare di alcuni servizi perché alcuni servizi dipendono in maniera esclusiva dalla moneta di scambio del tracciamento questa è una domanda su cui potremmo spendere ore intere anche sui principi etici è chiaro che però e qua concludo per non rubare tempo agli altri il passaggio di cui vi ho parlato prima cioè il passaggio da un internet della conoscenza a un internet della soddisfazione dei bisogni è lì il nodo cruciale perché io non posso prescindere dall'analisi e dalla comprensione degli utenti se voglio soddisfare i loro bisogni è proprio cambiato il paradigma quindi oggi non si tratta più di mettere insieme il patrimonio bibliografico e di librerie di alcune università come era la prima versione di internet oggi noi stiamo offrendo agli utenti un parco giochi su misura e quindi la moneta di scambio inevitabilmente dobbiamo cedere qualcosa per avere qualcos'altro grazie Daniele ma non difficile aggiungere qualcosa a quello che abbiamo detto i colleghi rispetto posso provare a fare un'ulteriore riflessione cioè a parte la battuta che se usi un servizio gratis in realtà il prodotto sei tu per cui questa è una cosa abbastanza abbastanza netta allora il problema del tracciamento il problema dei dati io sono perfettamente d'accordo con il professor Moschini viviamo in un mondo nel quale noi siamo obbligati obbligati a conoscere i nostri interlocutori obbligati a conoscere i nostri interlocutori non perché gli vogliamo vendere qualsiasi anche ovviamente ma non solo perché gli vogliamo vendere quello che effettivamente loro vogliono comprare ma soprattutto perché essendo un mondo conversazionale essendo un mondo di relazione perché poi alla fine i brand sappiamo perfettamente soprattutto noi comunicatori che conversano costruiscono relazioni ormai non comunicano sic e sempliciter nel momento in cui noi dobbiamo costruire una relazione una conversazione dobbiamo essere in grado di costruire del valore per i nostri interlocutori e per costruire del valore per i nostri interlocutori dobbiamo essere in grado di capire che cosa sia per i nostri interlocutori effettivamente un valore questo mi sembra un'equazione indiscutibile in questo i dati sono fondamentali il conoscere quindi non solamente i trend le abitudini di acquisto le abitudini di navigazione che vanno benissimo per un approccio commerciale ma io so che ormai le aziende i brand stanno andando anche molto oltre questo aspetto per esempio nell'ambito della misurazione reputazionale quello che viene misurato in termini di dati quello che viene raccolto in termini di dati dalle communities non è più neanche tanto il trend o l'argomento di conversazione sono le sensibilità profonde gli aspetti etico-morali le simbologie ciò che le persone ritengono giusto o sbagliato ciò che ritengono contestualmente la realtà e sulla base di questa concezione contestuale il modo in cui reagiscono a determinati temi e a determinati situazioni questi sono degli approfondimenti a livello di dati estremamente verticali estremamente profondi però estremamente pericolosi cioè vanno gestiti ecco direi che l'ultima parola chiave che voglio gettare nel dibattito è responsabilità perché se è vero come diceva il professor Moschini che alla fine della partita essere tracciati significa avere un servizio il che è vero però essere tracciati così profondamente tanto da essere clasterizzati non tanto sul fatto che a me piaccia il libro giallo piuttosto che il viaggio alle Canarie ma che cosa sia per me il mio sistema etico-morale e quindi sulla base di quello essere ingaggiato da un'azienda e in qualche modo coinvolto se vuoi appassionato ecco questo coinvolgimento questo appassionare non deve mai diventare manipolazione il confine è estremamente sottile ma estremamente sottile e passare dal ti coinvolgo in maniera positiva perché ti do qualcosa di cui tu hai veramente profondamente bisogno oppure mi schiero dalla tua parte in una battaglia che io sento mia social activism tanto per dire una cosa che in questo momento va abbastanza di moda però il confine che divide questo dal intercetto il tuo sistema etico-morale lo forzo e ti porto a prendere delle decisioni magari politiche magari sociali magari di schieramento più dure rispetto a determinate altre situazioni su tematiche molto delicate il confine è estremamente labile quindi è necessario mai come oggi un senso di responsabilità profonda degli operatori professionali della comunicazione perché abbiamo in mano un potere che non abbiamo mai avuto prima neanche ai tempi dei grandi sistemi mass-mediologici Passo proprio per la battuta diciamo le battute conclusive a Nicoletta se vuoi il microfono ecco qua credo che resti veramente pochissimo da dire perché chi mi ha preceduto ha già detto molto di quello che si può rispondere io volevo soltanto aggiungere una piccola battuta questa logica diciamo dello scambio dati servizi quindi l'accessione delle informazioni su quello che facciamo online e non solo in cambio dei servizi è una logica che ormai è estremamente pervasiva perché non dobbiamo pensare solo a Facebook ma a tutto il lavoro che le piattaforme dal gruppo Google a quello Microsoft a Apple a Amazon a Facebook fanno proprio come infrastruttura della società contemporanea tanto più adesso quindi è opportuno che come dicevano anche i miei colleghi prima non soltanto siamo consapevoli non soltanto siamo responsabili ma che non focalizziamo l'attenzione su singole attività l'e-commerce e social network ma comprendiamo che da quando ci iscriviamo alla piattaforma iCloud perché abbiamo comprato un iPhone a quando compriamo qualcosa su Amazon a quando accediamo a un cloud per salvare i nostri documenti beh siamo sempre in questa logica e quindi l'attenzione della responsabilità credo che debbano essere a 360 gradi grazie io non aggiungo altre parole anche per veramente non abusare della presenza degli illustri ospiti siamo arrivati alle 14 un quarto considerato che comunque magari abbiamo iniziato quei 10-15 minuti ci siamo fatti due ore intensissime di comunicazione sulla comunicazione nel prestare attenzione a tutte le informazioni che nel traffic che ormai diventa guardate che si può parlare anche di human traffic c'è un traffic umano perché di fatto quello che noi digitalizziamo è tutto il nostro profilo se noi parliamo di veterinizzazione sociale è come se davanti noi avessimo una matrice di dati che ci scompone ci scompone in gusti in tendenze in percorsi in cose dette di cui neanche ci ricordiamo e questo è molto interessante perché se questo va giustamente questo sono anche delle ricerche attuali come ha detto Chieffi anche nel nostro orizzonte morale a un certo punto noi viviamo esattamente soppesati come oggetti cioè siamo una componente quantitativa il famoso oggettivismo quasi della sociologia e non più una componente qualitativa e quindi una componente potremmo dire soggettivistica ma se siamo oggetti possiamo venire soppesati valutati misurati controllati come macchine e soprattutto in funzione delle macchine in questo caso diciamo delle macchine fra di loro legate da un business Galiberti si ferma alla Tecne ora siamo più in un sistema oligofinanziario ma è quello che noi rischiamo di diventare con tutti i nostri atteggiamenti le micro informazioni fra di loro ricomponibili su di queste andare poi a condizionare le future scelte sulla nostra esistenza che se esiste come auspicava anche Guglielmo un saldo controllo di queste informazioni sappiamo che non possono andare a influenzare delle scelte lavorative su chi ci assume o chi non ci si assume delle scelte assicurative sulle nostre malattie non malattie pregresse o nascosto di familiari incrociate dal DNA che è il più grande big data che esiste nel DNA ma sono stati messi in campo ad esempio per la per la intracciare quella situazione che ruotava di cui si è accusato Bassetti e Yara e gli ist abbiamo parlato di analizzare dei grandi big data che le persone lasciavano dietro di loro il DNA e sono informazioni anche quelle se non c'è un controllo preciso di tutte queste informazioni noi veramente possiamo trovare dei filtri e degli indirizzi che vanno a precludere tutte le nostre esistenze sotto forma di algoritmo probabilità di computer adesso ci sono in Europa giudici di pace che sono degli algoritmi probabilità di avere un'assistenza sociale probabilità o meno quindi di non essere soggetti che con una certa verità fanno un crimine o non fanno un altro questi gli algoritmi possono giudicare su tutte le informazioni che dietro di noi abbiamo lasciato ora credo che un limite fin quando riusciremo a poterlo fare come diceva Abermas il mondo di vita che tiene sotto scacco o sotto assedio il sistema in questo caso il sistema è un sistema altamente numerico è come un virus del sistema tende però a colonizzare attraverso una ogni aspetto della nostra vita esteriore e temiamo anche interiore io vi ringrazio tantissimo e spero che sia un arrivederci questo un grande arrivederci grazie Uniferpi grazie al Comune grazie all'Università grazie Nicoletta Nicoletta Vitadini Università Cattolica Daniele Chieffi che tantissime cose oltre che un collega di Massimiliano Moschini che è un collega anche nostro a Udine sembra la fiera dell'est ne siamo un po' più così a Gorizia non si può sappiatelo un abbraccio a tutti grazie e a presto grazie arrivederci 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 arrivederci